L'organico attuale nel 2024 prevediamo un aumento del 40% delle ispezioni per effetto anche del fatto che il personale ispettivo inserito nel 2023 completa il percorso di formazione e sarà quindi disponibile per le attività sul campo. Con altri 800 innesti abbiamo la possibilità di raddoppiare il nostro potenziale ispettivo e quindi ovviamente i controlli da effettuarsi.